E' stato firmato questa mattina l'accordo di programma per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro. Erano presenti il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il direttore generale di Azur Marche Nadia Storti e il direttore generale di Marche Nord Maria Capalbo. Oggi, ha dichiarato il presidente, si compie un passo importante per procedere alla realizzazione del nosocomio con un crono programma definito con lo scopo di arrivare quanto prima alla realizzazione di quello che è uno degli investimenti più grandi mai fatti dalla regione. Pur partendo da punti di vista differenti, affermato invece il primo cittadino, siamo riusciti a trovare un accordo sul contenitore dell'ospedale di Muraglia. Non nascondo, ha aggiunto Ricci, una forte preoccupazione per la mancanza di personale e in particolare sulla cancellazione dell'azienda Marche Nord e sul problema della mobilità passiva. Sarebbe interessante poi aprire un ragionamento sull'attuale area del San Salvatore che tenga insieme l'aspetto urbanistico e socio-sanitario. Nell'accordo si prevede il trasferimento delle strutture attualmente presenti nell'area di Muraglia entro il 30 settembre 2024 per permettere l'avvio dei lavori entro i successivi 30 giorni. La nuova struttura, di circa 70.000 m2, verrà realizzata con i più alti livelli di sicurezza antisismica e risponderà ai requisiti di risparmio energetico grazie alla costruzione di un edificio con consumo di energia quasi zero. Sono previsti circa 400 posti letto per un investimento di 170 milioni di euro anche in considerazione dei continui aumenti dei costi dei materiali. Inoltre, vista la complessità dell'opera, la norma prevede l'indizione di un concorso di progettazione entro la fine dell'anno in corso per individuare la migliore proposta che risponda alle esigenze del territorio con particolare attenzione all'inserimento nel tessuto urbano. Seguirà la progettazione fino a livello definitivo che potrà essere posto a base di gara da espletare con l'appalto integrato riducendo notevolmente i tempi procedurali. Si prevede di iniziare i lavori che dureranno circa tre anni entro il 2024.